Salve a tutti! Questa è la terza puntata di Piante contro zombie in versione inglese. Allora, eravamo arrivati al livello 1 o 6 dell'avventura. Iniziamo! Oh, guardate, nuovo zombie! Allora, passiamo! Qui ovviamente sarà molto difficile, ma è più facilitato con il... con il patamonio. Sarà molto più facilitato con il patamonio. Soprattutto perché non si dovrà usare il... se dovremmo usare troppi soli, troppe energie solari. Ok... 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 da dove finiranno i giugni ma c'è tutto questo? sta diventando un piccolo sono troppo Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sono arrivati a più di mille, mille e settantacinque. Grazie a tutti. Ok, prossimo livello. Come vedete non c'è bel tempo. Qua ci sono due organizzoni. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Come vedete sono già a buon punto. Qua si mette male. Ma non per me. Per me non ci mette mai male. La stella grande tranne per questa pianta qui e questa. la stella grande tranne per questa pianta. 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 Ci vediamo al prossimo video. Commentate e iscrivetevi. No. L'album ufficiale di New Super Mario Bros. Wii.